Ciao, benvenuti da Softstar87 in questo diciassettesimo episodio di Dying Light dove dobbiamo andare a salvare il dottor Zer. Quindi usciamo dall'edificio, anche se non l'avete visto ho appena passato la notte intera, nel vecchio video sono andato a prendere il progetto del Corec Macete e qui ve lo faccio vedere, in tutto il suo splendore, guardate, ha un danno di 489. E diventa grigio perché non si può aggiustare un'arma speciale e come progetti la potete ricreare. Fa un male allucinante, con un colpo mozzi braccia testa ai nemici. Comunque, restiamo di qua che non voglio aiutarli per ora loro. E andiamo subito verso la missione. E dai! Uè, a Gobbo! Gobbaccio! Quanto ci manca? Ok, siamo qui, siamo arrivati. Ah, proprio da Reiss! Mamma mia, però! La prenderò, è quella nuova abilità... Ok, la base è assigilata, le porte sono bloccate, non presso che riuscire ad entrare. Trova un altro ingresso all'ora, magari sul retro, ma non correre rischi inutili. Quei bastardi ti faranno a pezzi se ne avranno l'opportunità. Ok, proviamo ad andare dal retro. Ok, proviamo ad andare dal retro. Ok, proviamo a vedere se... Ho trovato un ingresso. Un escatto facile. Ok. Non sto rientrando. Vieni, gli occhi aperti. Buona fortuna. Perfetto. Ok, sto basso qui, vediamo se... Perfetto. Perfetto. Carabina militare. Inventario pieno. Non ho lasciato nulla? Inventario pieno, inventario pieno. Non c'è niente. Macete modificato. Corec macete e il posto della carabina. Perfetto. Ok, andiamo a uccidere il tipo. Perfetto. Andiamo alla carabina. Vi faccio fuori tutti. Non c'è niente. Saranno sul tetto sicuro. Allora sarà dentro la casina. Perfetto. 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 Oh, la. Guarda, ce n'è voluto per ucciderti. Mamma mia. Caffè, mannaio da verdura. Niente. Paccetta Highlander. Vediamo. Statua. Molto bene, bene, bene. Va bene, va bene. Poi... Andiamo a far fuori gli ultimi due. Andato. Portello da caccia. Cavolo, è volato giù. Beh, pazienza. Magari aveva una superarma. Magari no. Ok. E siamo dentro. Parla Craina. Mi sembrerebbe davvero un po' del supporto del GRE. Spiacente, agente Craina. Qui è il Ministero della Difesa. Cazzo. Che sta succedendo? Cos'è successo al GRE? La posizione del GRE è stata ridotta. Però... Comandiamo noi ora. E a RAL è stata dichiarata un bersaglio prioritario. Mmm, interessante. Aspetti, aspetti, aspetti un attimo. Non potete bombardare a tappeto questo posto. Ci sono ancora centinaia di innocenti. Forse miliardi. Irrilevante. Dobbiamo proteggere miliardi di vite. Se ne rende conto, vero? Sì, d'accordo, ma ascolti. Ascolti, qui c'è uno scienziato. Che sta lavorando a una nuova. Gli manca poco. Ho visto i risultati. Se bombardate la città... Ho ricevuto. La possibilità che uno scienziato in una città in rovina contenga risultati utili. Sono preso che nulla. Ma... Ha 48 ore. Ok. Va bene. Va bene. Qua. A posto. Ecco fatto. Lì c'è uno. Sei finito te, bello. Mi costa di ferro. C'è il borsone che non me ne ero accorto. Vuoto. Ok. Piano piano li facciamo fuori tutti. Ok. Bene, 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 bene. Bene. Perfetto. Non ho ancora finito con te. Perfetto. Ok. Qua c'è il materiale importante. Cos'è? Ah, sempre... Pezzi di metallo. Ok. Cos'è questo? Niente. Alcol. Cavoli, è pieno di questi coltellini qua, eh? Eccoci qua. Mi era saltata... Cioè, mi era finita la batteria della fotocamera. Dove sei, vecchio mio? Quindi... Ho dovuto un po' arrangiarmi. La fotocamera. Ok. E ora sono qua di nuovo. Ah, qua dove mi dava le missioni... Il tipo. Allora, guarda... Questa non mi interessa. Coltelle, niente. Condizione carabina, pieno. Ma è che... Non ho trovato zero all'interno. Talazzo, sembra vuoto. C'è un linello sotto il radio. Forse è là sotto. Ok. Minizione pistola. Ok. Minizione pistola. Non lasciare nulla. Bene, scendiamo. Sì, dove sarà il dottor Zer. Dai, venite qui. Preso in pieno. Non posso più aggiustarlo, questo. Ok. 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 Corriamoci. Fammi sentire. Ok. Ok. Strai. Ok. Commissione carabina. Commissione carabina non mi servono. Chiodi. Allora. Pistola. Facciamolo fuori, sto qui. Ok. Ok. Garza. 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 Grazie. Grazie. Perfetto. Dottor Zer, dove sei? Sarà qua? Eccolo. Trovato. Se la caderà, dottore Mauro, devo tirarla fuori, quindi abbassi la voce per favore. Oh, oh, sì, va bene. Ma capisce? La mia ricerca deve arrivare al dottore Mauro. Ecco che ho dato i pacchetti a Genita. So che aveva detto che li avrebbe consegnati, ma Genita era mia. Ecco, stringera. Dottore. Che è successo? Non è così. Basta un po' di falsa speranza per far parlare il buon dottore. Però mi scoppiano a tutti i costi. Con piacere. E questi due? Cosa ne facciamo? Non la troverete mai. Mai. E io non parlerò mai. Non avrete niente. Non ha bisogno che lei parli, dottore. Voglio impedire che lei scambi. Aiaiaiai. Aiaiai. Nell'arena. Chissà cosa succederà. Eh, sì. Chissà cosa ci succederà. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollicione su, commentate, iscrivetevi al canale e sostenetemi. Sì. Sicuramente sarò senza armi. Cazzo. Dottore. Sei arrivato tra noi, come una serbe nell'erba. Cri. Una città di bugie. Tu sei la più grande di tutte. Eh. Aspetta. Rispondi, figlio, il contrario. Sì. Perdi il controllo. Del resto è quello che riesce meglio a voi, americani. Sei io. Eh, il pugnaccio l'hai preso, eh. Sì. Niente male. Uccide i suoi. Rimuovete i cadaventi. Lasciate i cadaventi. Se sei fuori. Non riesco a capire. Comunque, eh, penso che l'arena ve la farò vedere nel prossimo video. Con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.